qual è l'immagine che darwin ha della natura e qual è l'immagine che darwin ha della scienza ora quando vi ponete queste domande e ve le ponete in relazione a un gigante del pensiero con in questo caso un classico il pensiero scientifico come darwin è buona norma stare sui testi cioè non fidarsi di quello che l'autore potrebbe eventualmente dire in risposta a queste domande infatti se noi apriamo uno scritto che darwin ha composto su giusto suggerimento della moglie cioè la sua autobiografia quando darwin era ormai avanti con gli anni la moglie in modo insistente gli chiese di scrivere una sua autobiografia e darwin effettivamente giorno dopo giorno dedicava un'ora due ore al giorno a scrivere questa sua autobiografia che vi consiglio di leggere perché è molto breve ma molto bella incisiva bene se noi andiamo a leggere l'autobiografia soprattutto la prima parte autobiografia darwin ci dà un'immagine la sua immagine della scienza che è la seguente dice io in fondo non ho fatto altro che costruire individuare delle leggi basandomi sui fatti anzi dice a un certo punto mi sembra di essermi trasformati in una macchina che produce leggi quindi che immagine ha darwin della scienza a un immagine potremmo dire baconiana in primo luogo vengono i fatti e poi noi dai fatti possiamo ricavare le leggi si sente in questo un'esigenza ben comprensibile l'esigenza cioè che le nostre teorie abbiano sempre un fondamento stabile sicuro alle cose fatti non parole d'altra parte però se noi leggiamo le sue opere in particolare il suo capolavoro l'origine delle specie vediamo che questa immagine è un'immagine parziale anzi un poco claudicante rispetto al modo con cui darwin ha praticato la sua ricerca scientifica per la verità se leggiamo anche le ultimissime pagine dell'autobiografia un campanello d'allarme si apre perché quando darwin ormai sta concludendo questa autobiografia dice una cosa una cosa importante perché dice ma io perché ho dedicato la mia vita allo studio delle scienze naturali voi sapete che darwin giovane fu avviato agli studi dal padre veniva dalla famiglia di medici fu avviato gli studi di medicina con scarsi risultati non era un bravo studente aveva studiato in modo molto negligente allora il padre visto non buon esito degli studi di medicina del figlio pensò di preoccupandosi per il futuro del figlio lo indirizzò a studi di teologia onde farne un prete e anche e lo portò a cambridge anche in quel caso darwin non brillò per studio per interesse e poi grazie all'intervento di un professore un teologo che si accorse dell'amore che questo ragazzo aveva per il mondo naturale il padre consentì alla sua avventura cioè l'imbarcarsi sul bigolo e stare per cinque anni in giro per il mondo c'è una lettera molto bella in cui il padre dice il figlio padre aveva negato la sua autorizzazione e allora siamo nell'ottocento se un genitore negava l'autorizzazione la cosa non sarebbe stata fatta interviene a favore del giovane darwin uno zio e il padre dice beh se lo zio reputa che tu possa fare questo viaggio se lui pensa che sia una cosa importante per te beh questo per me è un argomento importante e infatti lo zio si reca a parlare col padre di darwin e alla fine il padre dà l'autorizzazione darwin poi rientra in inghilterra dopo questo viaggio e cosa fa ma sposa una sua cugina che era particolarmente facoltosa per motivi di famiglia aveva una fabbrica di ceramiche e praticamente vivrà tutta la sua vita in modo molto regolare e tranquillo cioè sostanzialmente vivendo un certo periodo in poi in una villa poco discosta da londra e passando la sua vita regolarmente dedita a pensare e a riflettere su tutto lo straordinario materiale che aveva raccolto durante questo suo viaggio intorno al mondo è una vita molto regolare ebbene quando nella fine dell'autobiografia vuole spiegare perché ha passato questa sua vita non ci sono eventi dopo il viaggio col beagle non ci sono stati eventi eclatanti nella sua vita lui da una prima indicazione che penso da tenere presente dice in fondo ho fatto quel che ho fatto perché ero mosso da un amore profondo per il mondo naturale dice proprio questa parola amore e questo è importante perché ci dice che allora alla base della sua ricerca scientifica sta un amore amava ciò che faceva e questo penso che sia una caratterizzazione a tenere presente dobbiamo sempre amare quello che facciamo qualunque cosa si faccia perché se lo faremo con amore non ci peserà e lo faremo sicuramente al meglio l'amore l'eros è una forza incredibile ci ci permette di di mettere in azione tutte le nostre risorse intellettuali di volontà ci permette appunto di metterci in tensione per qualcosa poi aggiunge un secondo elemento dice ho sempre lavorato con una grande pazienza c'è una mostra che è stata organizzata dagli inglesi ma ha girato un po per l'europa è venuta anche in italia e è stato ricostruito il giardino di darwin lui amava passeggiare in questo giardino facendo sempre una passeggiata abbastanza uguale lungo questo sentiero c'erano dei sassi a seconda della posizione in quale nella quale lui metteva questi sassi questi indicavano dei problemi aperti e quindi è un uomo di una pazienza incredibile su un problema si è rimasto anni anni voi sapete che la pubblicazione del suo capolavoro è stata stimolata a un certo punto perché lui era anni che ormai aveva raccolto i risultati ma ricalcitava pubblicarli poi gli è arrivato una relazione di un naturalista che era giunto a conseguenza abbastanza analoghe e sull'onda di questa relazione alcuni amici lo invitarono a pubblicare un po rapidamente i risultati dei suoi studi perché in caso contrario come spesso succede nell'ambito ricerca scientifica qualcun altro avrebbe pubblicato quegli stessi risultati soprattutto quella stessa teoria però ci piace ricordare anche questo darwin che ama ciò che fa e ci lavora pazientemente con calma e poi dice che il terzo elemento che l'ha guidato è quello dell'immaginazione e questo è importante l'immaginazione all'interno della ricerca scientifica vedete che secondo questa pagina siamo molto lontani dall'immagine baconiana standard questo ci dice una cosa importante che anche darwin ha subito l'egemonia di una tradizione l'egemonia tradizione bacognana si è imposta sostanzialmente con la fermarsi della scienza moderna perché perché lo slogan della dell'immagine bacognana della scienza era proprio quello che ho ricordato fatti non parole e in genere si pensava che il potersi riferire immediatamente ai fatti fosse la garanzia della serietà delle cose che si fermavano beh in realtà la scienza è qualcosa di più complicato ricordiamo che nel 57 einstein riceve una lettera da un suo sodale amico con cui aveva condiviso tutti gli studi fin dalla gioventù moris solovin quale gli chiede ma per te cos'è la scienza cos'è il pensiero scientifico e darwin e einstein fa un disegno per rispondere a questa domanda che è un disegno molto bello perché traccia una linea orizzontale in cui dice su questa linea si colloca era di origine tedesca quindi dice lebenswerte cioè il mondo del vissuto l'insieme delle nostre esperienze basate sui cinque sensi che è un insieme contraddittorio caotico vediamo con i nostri occhi che i binari vanno a convergere all'infinito ma sappiamo che è un'illusione ottica vediamo il remo spezzato nell'acqua bene però questi questa conoscenza empirica ci dà un orizzonte di orientamento che quello che usiamo tutti noi nel mondo della prassi poi dice einstein sopra questo questo livello esperienziale c'è qualcosa che fluttua e indica proprio l'immaginazione è qualcosa che fluttua sulla nostra esperienza è un mondo in cui noi abbiamo delle fantasie abbiamo abbiamo qualcosa che ci frulla nel capo da questo mondo dice Einstein poi a volte nasce un'idea che ci porta ad affermare qualche 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 postulato tipo che ci potrebbe essere un'equivalenza tra la la massa e l'energia da quel postulato poi con un metodo rigoroso costruiamo una teoria usiamo la logica matematica per costruire un apparato teorico di tipo deduttivo e poi dice Einstein dai risultati di questo apparato teorico torniamo a quel mondo dell'esperienza ma lì indica una linea tratteggiata perché dice il ritorno è problematico avviene attraverso la sperimentazione e ci sono molti problemi che si aprono e dopo aver fatto questo disegno dice ecco per me questo è il pensiero scientifico